Dare continuità alla missione di Biagio Conte nel rispetto delle ultime parole pronunciate dal missionario prima di morire. Non spendete nulla per me, ma date tutto ai poveri. Ecco l'idea da cui tra le mosse è la collettiva di pittura in memoria di fratele Biagio, fondatore della missione di speranza e carità in soccorso ai più deboli ed emarginati. A ideare l'evento la professoressa Carmen Frisina, direttore artistico del progetto. Coordinamento e grafica invece sono stati affidati ad Aurelia Canè. La mostra curale, che prende il nome proprio della missione, è un affettuoso omaggio a un uomo indimenticabile. A perpetuarne la memoria sono gli artisti che esporranno le loro opere nella cripta della chiesa dei padri teatini in via Vittorio Emanuele. Mostra fruibile con ingresso gratuito. Professoressa, come e perché nasce questo progetto? Nasce da una mia idea e da un'ispirazione. Io quando è scomparso Biagio Conti ho sentito come una fortissima emozione e mi è venuto proprio l'istinto di voler fare qualcosa per lui e per continuare la sua missione. Per questo è una collettiva per ricordarlo. Ecco la finalità di raccogliere dei fondi per i poveri della città. Questo progetto è stato molto faticoso da realizzare, sia per trovare le strutture, anche per tutti, a volte, degli impedimenti che si vengono a creare man mano che si va avanti nel percorso. Da Roma è arrivato appunto un messaggio del Vaticano dove si fa complimenti per me, che sono l'ideatrice e la curatrice della mostra, e tutti gli artisti che partecipano per la città di Palermo. La mostra si trova presso la chiesa di San Giuseppe dei Teatini, ai Quattro Canti. È stata inaugurata ieri e durerà fino al 17 di luglio.